Ciao a tutti! Oggi faremo un esperimento sulle ossa per vedere se contengono l'osseina. Dobbiamo procurarci un bicchiere pieno d'aceto. È un osso di pollo o di coniglio, però ben pulito. Cominciamo a mettere l'osso nell'aceto e poi dobbiamo aspettare 3-4 giorni. Oggi è martedì 17 novembre e fra 3-4 giorni vedremo come sarà diventato l'osso. Oggi è venerdì 20 novembre e dopo aver lasciato riposare l'osso per il tempo stabilito, vediamo se si piega. L'osso si piega, quindi possiamo dire che il nostro esperimento è riuscito. Però magari si sarebbe potuto piegare un po' di più se fosse stato più sottile. La seconda parte dell'esperimento. Prendiamo un altro osso e bruciamolo su una fiamma per qualche minuto. Dopo un po' l'osso si dovrebbe rompere perché abbiamo bruciato tutta l'osseina presente. Adesso, dopo averlo fatto bruciare sulla fiamma un bel po', verifichiamo se si rompe. L'osso si è rotto, quindi possiamo dire che il nostro esperimento è riuscito. E quindi il fuoco ha carbonizzato l'osseina, ma sono rimasti solo i sali minerali. Grazie. 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 Grazie.